persino gli amici non ci credevano eppure corre dopo avere superato prove micidiali da più di dieci anni resiste la moda un bel po ipocrita di chiedersi come sarà il dopo berlusconi sia fra chi lo vorrebbe sia fra chi non se lo augura berlusconi stesso si è sempre fatto un vanto della sua quasi invulnerabilità aveva riadattato a sua immagine la storiella di col tale che superava una dopo l'altra le disgrazie più micidiali riuscendo sempre a farcela berlusconi avvertiva che la storiella andava per le lunghe finché uno dei presenti chiede e poi come finisce finisce dice il narratore che l'abbiamo dovuto abbattere e lui non l'ha abbattuto nessuno malgrado le prove micidiali del resto non esiste nella politica europea e di alcuna altra democrazia una biografia simile a quella di quest'uomo che dopo essere sceso in campo vincendo subito ha subito dovuto affrontare un fuoco giudiziario privo di prove e statisticamente assurdo seguitando a resistere tornare a vincere malgrado decine di processi finiti in nulla salvo uno che sotto l'attenzione della corte di strasburgo così l'unico dopo berlusconi alla fine è lui berlusconi stesso the last man standing l'ultimo rimasto in piedi così è inevitabilmente nata l'idea della sfida per la presidenza della repubblica e tuttavia molti suoi amici più vicini si dichiarano presi di contropiede come fedele confalonieri che dichiara il suo ammirato stupore lo racconta francesco verderami sul corriere della sera ammettendo tutti lo davano per morto e invece si è ripreso una centralità politica su cui nessuno avrebbe scommesso